Molise a calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo, uscita a Civitanova del Sannio Consul Brokers SPA, Piazza della Repubblica 14 Barra A Campobasso, broker di assicurazione Molise a calci Buonasera, ben ritrovati con una nuova puntata di Molise a calci per poco, non ci è scappato in Serie D il secondo turno consecutivo con un unplane di vittorie delle molisane non è stato così perché l'Agnone è stata raggiunta a Cattolica ma l'1 a 1 di Cattolica può essere comunque considerato un buon risultato per l'Olimpia agnonese, per il resto hanno vinto Campobasso e Vastogirardi Vastogirardi contro l'Avezzano, ecco perché ho fatto questo lapsus quindi il bottino delle molisane per quanto riguarda la terza di ritorno è di 7 punti su 9 la quarta di ritorno per quanto riguarda l'eccellenza abbiamo seguito una partita in particolare vale a dire Campodipietra, Campobasso 1919 ma parleremo davvero di tantissimi argomenti con gli ospiti che ci hanno raggiunto in trasmissione quindi non perdo ulteriore tempo e mi appresto a salutare Erika Rico, buonasera a te Erika Buonasera Gianni, buonasera a tutti i nostri amici telespettatori vi do anch'io il benvenuto nel nostro salotto calcistico del lunedì sera i canali su cui potete seguirci sono sempre gli stessi ovvero l'11 qui in Molise, l'880 in Lazio e il 96 in Abruzzo ma siamo disponibili anche in diretta streaming sul sito www.telemolise.com anche oggi indosso un abito che mi è stato gentilmente offerto dalla boutique Smeralda Moda situata qui a Campobasso in Piazza Pepe quindi saluto e ringrazio la signora Pinella Allora abbiamo annunciato già due ospiti di un certo spessore Oggi parleremo di tanti argomenti con Antonio Di Rocco Di Ricco Di Ricco Buonasera a entrambi i nostri ospiti Allora Antonio abbiamo detto appassionato tifoso del Campobasso dipendente di Autopia di Gianunzio Magnifico che è main sponsor del Campobasso soddisfazione per questo filotto in Casa Rosso Blu che è un filotto davvero incredibile di 12 risultati utili consecutivi ci sono veramente tanti spunti di riflessione in queste 12 giornate il Campobasso ha segnato 29 gol facendone 12 a commento di questo che cosa si può dire insomma che rimane inalterato il distacco dalla vetta ci si avvicina al secondo posto Sì ci si avvicina al Materica che ieri ha pareggiato e poteva anche perdere e magari ecco ora è molto meno distante anche la Reganatese un punto solo quindi il secondo posto è molto meno distante il Campobasso può ambire sicuramente al secondo posto se il Notaresco perdesse qualche partita magari anche al primo Ecco la classifica il Notaresco ha vinto dopo aver ceduto per mano del Campobasso ha vinto a Iesi 2 a 0 poi ci saranno degli spunti di riflessione anche sul Notaresco il Materica ha impattato 0 a 0 a Giulianova il Giulianova ha sbagliato il rigore il Materica ha preso una traversa la Reganatese ha vinto a Montegiorgio 2 a 1 poi via via tutte le altre con la vittoria del Pineto sul campo della San Giustese male la vastese che è andata in svantaggio dopo un solo minuto di gioco a Fiuggi ha perso 3 a 0 e domenica si prepara ad ospitare il Campobasso ieri era senza gli squalificati di Filippo e Vittorio Esposito l'Agnone stacca quota 30 che è una quota sicuramente tranquillizzante in questo momento del campionato così come i 28 del Vasto Girardi perché Antonio Aquino direi con te c'è questo solco fra il Vasto Girardi e una parte un po' più modesta della classifica la possiamo tenere in onda se è possibile ma credo che il Vasto Girardi sta facendo un ottimo campionato alla sua prima esperienza quindi con questi risultati la salvezza non dovrebbe essere complicata quindi ecco già si è delineata qualche differenza di energie, di forze proprio questi 5 punti fra Sant'Elpidio e Vasto Girardi per te non dovrebbe essere complicata per quanto riguarda l'Agnone potrebbe rientrare nel giro playoff ad oggi? Non lo so, ad oggi credo di no perché è una squadra che sta facendo bene ma rispetto a quelle sopra ha qualcosa in meno Campobasso, secondo te? Campobasso in questo momento è la squadra più in forma del girone lo dimostrano i risultati non è lontana dai posti alti però il notarisco non molla i 11 punti mi sembrano un po' tanti per rincorrere il primo posto allora dico solo questo per alimentare le statistiche poi farai un commento tu Antonio anche Antonio Aquino alla vigilia del periodo felice del Campobasso quindi dobbiamo riavvolgere il nastro di 12 turni il Campobasso aveva una distanza dal notaresco di 13 punti quindi c'era il notaresco a 21 e il Campobasso ad 8 tutto questo all'ottava giornata poi il Campobasso ha fatto 30 punti e il notaresco fate un po' la sottrazione 49 meno 21 ne ha fatti più di 21 26 la differenza è che il Campobasso era a meno 13 adesso è a meno 11 quindi vuol dire che c'è un'entità, una squadra che sta andando fortissimo quasi come il Campobasso dico quasi perché il notaresco poi ha perso nel suddetto periodo due partite però una contro il Campobasso prego secondo me ci sono ancora 14 turni quindi ancora ci sta spazio per provare a vincerlo questo campionato sperando che il notaresco perda qualche partita secondo me il Campobasso oggi è la squadra più forte del campionato è una squadra quadrata, una squadra che vince le partite dominandole quindi io vorrei che noi tifosi, che la società ci credessimo un po' tutti di più sicuramente qualcosa arriverebbe allora poi torniamo sulle tue dichiarazioni ma prima andiamo negli spogliatoi di Selva Piana dove c'era grande serenità e abbiamo fatto la conoscenza di un volto nuovo esattamente di chi in Casa Rosso Blu Erika sì per la prima volta ai nostri microfoni Giulio Sanseverino il centrocampista il nuovo acquisto del Campobasso e Andrea Mosconi l'allenatore del Tolentino ma penso che è meglio di così non si poteva chiedere è stata una bella partita abbiamo fatto tutti quello che dovevamo fare quello che ci ha chiesto il mister ci aveva già annunciato che era una partita un po' potrebbe essere complicata quindi l'abbiamo approcciato nel modo migliore come l'avevate preparata? mi avevo preparata giocando sugli esterni facendo la rotazione con la mezzala trovando spazio in ampiezza quindi poi siamo riusciti a fare quello che ci ha chiesto il mister per fortuna i ragazzi sono stati perfetti mi sono subito, sin dall'inizio mi hanno fatto integrare alla grande quindi poi in campo è lo specchio di quello che poi è il gruppo quello che è l'allenamento quello che è tutta la società quindi alla fine siamo messi nelle condizioni per fare bene quindi questo è l'importante ma per fortuna la gara si è messa bene sin dall'inizio quindi sono riusciti a reggere tutta la partita l'ultima partita l'ho fatta il 10 dicembre poi sono continuato ad allenare però comunque il ritmo gara è tutta un'altra cosa però oggi per fortuna è andata bene sin dall'inizio quindi ci voleva anche un po' di gestione della palla quindi per fortuna poi si è abbassato un po' il ritmo era una partita in equilibrio era una partita in equilibrio dopo l'inerzia l'ha cambiata il primo gol però noi non abbiamo fatto un approccio assatanato come facciamo di solito abbiamo forse subito un po' il campo basso dopo l'inizio del secondo tempo quella forse è il vero Dolentino è una squadra così importante e così forte non gli puoi regalare permetterti di regalare un approccio non assatanato da lupi tra virgolette quello poi a prescindere che magari il primo gol deve essere fuori gioco all'inizio però non conta conta che ci hanno fatto uno o due poi il secondo tempo abbiamo cercato di riaprirla ci hanno fatto il terzo gol però onore al merito a campo basso noi facciamo mea colpa perché non abbiamo giocato la partita come si andrebbe a giocare noi vediamo da una striscia positiva importante è normale qui a campo basso due giocatori a campo basso costano come tutto il Tolentino perciò è una partita da Davide contro Colia a livello di budget però abbiamo regalato Andrea Mosconi del Tolentino Erika non so che cosa ne pensi di questo campo basso che viene considerato dagli addetti ai lavori la migliore squadra in questo momento del campionato alla terza di ritorno Dal mio punto di vista sembra come se ci fossero due campo basso un campo basso che abbiamo visto all'inizio della stagione e un campo basso invece che gioca adesso e sta facendo tantissimi punti io mi auguro che per questa fine di campionato continui così almeno per assicurarsi il posto che ormai ha nei playoff Ok, Antonio tu senti anche qualche dirigente del campo basso lo stesso presidente De Francesco Mario Gesuè c'era un po' di malcontento legato alle presenze? Assolutamente sì Riferite proprio a ieri campo basso Tolentino Ieri alla fine eravamo mille persone quindi non ancora purtroppo si accende la passione vera del pubblico campo basso Allora, io quello che posso notare statisticamente essendo presente a tutte le partite interne del campo basso è che c'è qualche ritardatario questo proprio per la statistica nel senso che molti affluiscono intorno anche alle 14.40 14.35 anche qualcuno con un quarto d'ora di ritardo Secondo te perché non decollano le presenze? Siamo sui mille probabilmente la società si sarebbe aspettata 1.300-1.400 di presenze ieri contro il Tolentino a seguito della vittoria in casa del notaresco Secondo te perché? Poi lo chiediamo pure ad Antonio Aquino che è di Avellino quindi è un'altra piazza simile a Campopasso che milita in Lega Pro Perché purtroppo alcune persone magari non hanno la ecco non riescono ad avere ecco quella passione giusta per chiedere magari ai propri familiari mangiamo almeno una mezz'oretta prima o 45 minuti prima alcuni lavorano purtroppo rispetto ad anni fa che magari la domenica si stava chiusi quindi ecco questo è il motivo cardine poi comunque ci saranno magari il pubblico Campobassano è stanco di vedere la D questo è il punto più importante stanchissimo di vedere la D Questa è la tua chiave di lettura Antonio Aquino Ma credo che il Campobasso sia come città come squadra in questo momento merita ben alte presenze allo stadio questi numeri così bassi secondo me derivano dal fatto che non non vi è una passione di molta gente ma si riduce sempre ai soliti 300-400 tifosi e non si riesce ad allargare questo giro anche parlo proprio di ragazzi di di gente che ci vorrebbe qualcuno che inculcasse questa passione anche ai più giovani beh direi a questo punto probabilmente qualcosa legato anche ai mancati risultati del passato alle cattive gestioni del passato però adesso direi facciamo un appello insomma credo che si possa venire in maniera un po' più cospicua massiccia allo stadio i risultati stanno arrivando la squadra gioca si diverte corre appassiona ci sono i presupposti perché poi sembra quasi che per venire alla partita debbano ricorrere tantissime condizioni il bel tempo non lo so l'abbassamento del 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 biglietto la squadra prima in classifica insomma certe volte essendo un fatto di passione si possono ignorare tutte queste condizioni prendere e venire lo stesso pranzo si potrebbe anticipare quindi credo giusto giustissimo ma non è una polemica quello che penso perché se a volte noi vedevamo nell'epoca e nell'epoca passate la gente anche un'ora prima la partita eccetera quindi bisogna ritornare a quei tempi se è possibile il calcio era molto più sentito nella nostra città comunque forse dovremmo fare leva sui ragazzi delle superiori già da lì coltivare la settimana rosso-blu praticamente già pensare all'impegno del campo basso nell'epoca mie proprio da ragazzo si sentiva molto si sentiva tantissimo perché ecco la gestione Berardo di quell'epoca ci faceva già pensare a tutta la settimana non era solo la squadra che era molto forte era già da come si improntava anche perché è una finalmente una stagione nella quale è passato un messaggio molto molto significativo ieri a Domenica Sport finalmente non parliamo di debiti pregressi di ristoranti che avanzano i soldi giocatori che non hanno gli stipendi eccetera e direi finalmente perché veramente a memoria mia personale non so da quanto tempo non si parlava solo ed esclusivamente di calcio giocato quest'anno si parla di calcio giocato finalmente abbiamo una programmazione una società che ha programmazione che vuole investire tanto proprio sulla città di Campobasso il settore giovanile che tira tantissimo e che va forte secondo me ora manca solo il pubblico speriamo bene che ritorni la passione ecco manca qualche numero nel pubblico perché per esempio io ho fatto una costituzione personale poi passiamo al vasto girardi l'entusiasmo era tangibile a Notaresco dove l'ambiente era piccolino quindi una tribuna piccola il calore Campobassano si sentiva tantissimo ieri ovviamente un ambiente un po' più dispersivo quindi non si percepiva il calore anzi era una giornata freddissima diciamocelo francamente quindi manca qualche numero allo stadio e la dirigenza di questo non è contenta lo annotiamo come fatto confermato dal nostro ospite Antonio Di Ricco che si relaziona spesso e volentieri con i dirigenti del Campobasso Vasto Girardi Avezzano è terminata 2 a 0 doppietta di Chiere Matagli che sale a quota 13 gol stagionali Erika sì un'altra vittoria per le Movisane impegnate nel campionato di Serie D ai nostri microfoni Francesco Farina allenatore del Vasto Girardi e Marco Cicchetti l'allenatore dell'Avezzano Mister Farina seconda vittoria consecutiva si è piazzato un altro colpo salvezza molto importante No ma noi abbiamo fatto un campionato molto regolare siamo una piccola realtà abbiamo fatto male l'unico mese che abbiamo fatto male è dicembre ma dicembre sembrava un supermercato che entrava che usciva quindi non c'era più spirito di squadra anche se i ragazzi hanno dato comunque sempre grande prova di squadra però purtroppo nel calcio non puoi mettere tre titolari dall'oggi o domani soprattutto quando c'è delle situazioni tattiche consolidate quando c'è delle giocate quindi siamo andati un po' in difficoltà soprattutto con i campi però adesso siamo ritornati oggi abbiamo fatto a meno di Petrone Corbo Devizia però i nuovi ormai sono integrati e quindi ci stanno dando una grossa mano Cosa è accaduto a Devizia intorno alla fase di riscaldamento? Felice ha avuto un piccolo problema al ginocchio è ginocchio operato quindi stiamo cercando di recuperarlo questa settimana era andata tutto liscio abbiamo fatto degli elementi importanti e gli ha sostenuti oggi è appena andato in campo è successa questa cosa gli dedico la vittoria perché è un ragazzo che ci sta mettendo l'anima però purtroppo ha difficoltà a recuperare deve stare solo tranquillo e allenarsi bene adesso e piano piano lo rinseriamo mister Cicchietti seconda sconfitta consecutiva per l'Avezzano una partita però molto combattuta questa con il Vesto Girardi infatti siete rimasti comunque in gioco fino alla fine subendo il 2-0 nel recupero la partita penso che l'avete visto tutti noi nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita eravamo in partita fino alla fine poi nel secondo tempo abbiamo cercato di cambiare qualcosa eravamo in partita l'espulsione ci ha penalizzato molto e alla fine abbiamo preso il secondo gol i ragazzi hanno dato tutto purtroppo è un momento difficile che è consapevole di questo ci dispiace per il Presidente che sta facendo tanti sacrifici ma cerchiamo in tutti i modi di non mollare noi non vogliamo mollare i ragazzi non si devono abbattere perché questo campionato bisogna lottare fino all'ultima partita ecco un terzo un terzo ultimo posto ovviamente una situazione un po' complicata secondo lei la ricetta per uscire dalla crisi quale potrebbe essere? parlare molto poco è lavorare molto perché questo è un campionato molto difficile ogni partita sarà uno spareggio anche le altre squadre fanno fatica come stiamo facendo noi fatica giustamente quando i risultati non vengono il morale è molto basso però noi dobbiamo cercare di capire il momento essere ancora più uniti e prima o poi arriverà anche per noi il risultato importante che ci tirerà fuori da quella situazione difficile le possibilità ci sono la squadra tutto sommato quando gioca le partite se le gioca fino alla fine quindi manca qualcosa che dobbiamo ancora lavorare durante la settimana per migliorarle abbiamo visto l'esultanza di Chiarema Teng domenica Bastese Campobasso all'Aragona Agnonese Chieti e Pineto Bastogilardi Erika Sì volevo chiedere ad Antonio Di Ricco una cosa sul Campobasso attualmente è in quarta posizione quindi per come stanno le cose accederebbe ai playoff mettiamo conto che vince i playoff e va in Serie C dato che come abbiamo detto anche all'inizio l'azienda di cui sei dipendente Autopia è anche main sponsor quindi magari ha anche una visuale del retroscena di quello che accade nel Campobasso secondo te ci sono i presupposti per poter affrontare una Serie C? Secondo me sì assolutamente sì l'organizzazione che ci sta dietro la squadra è un'organizzazione ma veramente che non si vedeva da anni qui forse dall'epoca Molinari quindi c'è un'ottima organizzazione quindi il campionato di Serie C è possibilissimo Tramite ripescaggio perché poi ha confermato ieri il direttore generale Domenico Fagnano ai nostri microfoni a Domenica Sport che c'è la volontà di procedere a un ripescaggio indipendentemente poi da come finisca questo campionato giusto? Assolutamente sì si è più volte detto che se anche purtroppo non lo vincessimo anche basterebbe arrivare anche i quinti per accedere ai playoff e quindi per avere la possibilità di essere ripescati l'anno prossimo e da un punto di vista economico ci sono tutte le sicurezze quindi non vedo come possiamo rimanere in D l'anno prossimo speriamo di fare questo salto perché poi si riavviverebbe anche tutta la città di Campobasso sicuramente allora noi procediamo con la Moviola non ci sono stati grossi episodi a Selvapiana vediamo anche nelle altre partite delle squadre di Serie D Erika si analizziamo insieme il primo blocco di Moviola sulla Serie D a cura del direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità Siamo a Selvapiana esattamente al quinto minuto del primo tempo grande opportunità per Alessandro ricostruiamo l'azione insieme al nostro regista Donato Mignogna dunque torniamo dietro sul cross di Cogliati perché poi l'arbitro qui non è intervenuto no andiamo un attimo dietro facciamo vedere tutto lo sviluppo dell'azione ecco qui vediamo Cogliati che mette in mezzo ribatte la difesa del Tolentino colpo di testa di Sanseverino allora qui il punto è vedete che Zammarchi in questo momento tocca il pallone con la punta del piede vedete in area di rigore tutto solo c'è Alessandro in chiara posizione di fuorigioco andiamo avanti con le immagini perché poi vedete la palla filtra Alessandro colpisce il portiere avversario ma comunque anche se l'arbitro non ha fischiato questa era un'azione irregolare quattordicesimo del primo tempo protesta del Campobasso c'è un dialogo stretto tra Alessandro e Candellori a un certo punto c'è un giocatore avversario vedete esattamente Minnozzi che tocca il pallone con la mano destra vedete proprio il braccio di Minnozzi sul pallone azione che però come possiamo vedere dal fermo immagine si sviluppa fuori area secondo noi anche il braccio perché i piedi del giocatore in maglia rossa sono fuori dall'area di rigore ma secondo noi anche il braccio è fuori dall'area di rigore il problema è che qui l'arbitro non ha fischiato nemmeno un calcio di punizione in favore del campo basso non era rigore ma il calcio di punizione dal limite era sicuramente da concedere alla formazione rosso-blu quattordicesimo del primo tempo a Cattolica con l'Agnone già in vantaggio va vicino al pareggio il Cattolica con questo colpo di testa di Ferraro torniamo un attimo dietro dal calcio d'angolo vedete colpisce di testa Ferraro il pallone praticamente colpisce l'esterno del palo alla sinistra di Mejiri portiere dell'Agnone sfortunato in questa circostanza Ferraro e il Cattolica decimo minuto del secondo tempo risponde anche l'Agnone con un palo seguiamo l'azione perché è molto bella l'azione di Minicucci che vedete supera un avversario in aria poi cerca il primo palo ma il problema è che lo colpisce perché il pallone rimbalza lontano aveva scelto di calciare proprio alla sinistra del portiere avversario sfortunato a quei Minicucci perché per lui poteva essere l'opportunità per il raddoppio proteste dell'Olimpia agnonesi al trentesimo vedete l'azione allora andiamo un attimo dietro perché c'è un cross dalla sinistra dell'Agnone vedete il passaggio all'indietro qui si avventa Peic e cadendo c'è un giocatore della Cattolica esattamente Barellini che vedete colpisce il pallone con il braccio per noi questo era calcio di rigore colpevolmente non concesso dal signor Campagni di Firenze che ha arbitrato questa partita qui se ci fosse stato l'ausilio della Var sicuramente ci sarebbe stato calcio di rigore per l'Agnone che l'avrebbe chiusa qui invece nel finale è arrivato il pari dei Romagnoli 44esimo del primo tempo ad Agnone al Civitella la partita tra Bastogirardi e Avezzano c'è questo intervento da dietro di Di Giacomo giocatore con la maglia bianca che con il piede sinistro va a colpire il piede sinistro di Chiere Mateng questo è sicuramente calcio di rigore infatti vediamo proprio lo scatto dell'arbitro il signor Mallardi di Bari che indica il dischetto dagli 11 metri va Chiere Mateng che con grande abilità porta in vantaggio il Bastogirardi al 29esimo del secondo tempo solo sfortunato l'attaccante di colore del Bastogirardi perché seguiamo l'azione questo è uno schema sicuramente dettato da Farina c'è calcio d'angolo salta Ruggeri che prolunga la traiettoria del pallone ecco qui vediamo con rivediamo con calma vedete Ruggeri arriva Chiere Mateng che con un gesto davvero acrobatico molto bello in spaccata in rovesciata colpisce la traversa della porta avversaria sfortunatissimo qui Chiere Mateng che però si rifarà con gli interessi poco dopo perché firmerà anche il gol del 2-0 Allora partiamo da Chiere Mateng Antonio Aquino che tipo di giocatore è al di là proprio degli episodi tu che sei anche nella scuola calcio Mirabello quindi cerchi di avere un occhio tecnico è un giocatore fortissimo sia tecnicamente che fisicamente alterna il suo modo di giocare sia con grandi toti tecniche grandi giocate che anche quando mette il fisico dalla sua parte oltre a essere un ottimo finalizzatore visto il bottino 13 gol fino a questo momento penso sia un ottimo bottino capocannoniere Pera con 16 marcature per quanto riguarda Cattolica Agnone Antonio Di Ricco c'è l'Agnone che recrimina per un rigore non dato un braccio galeotto o meno di Barellini in area di rigore del Cattolico era rigore inettamente quindi Agnone penalizzata penalizzato sì perché poi insomma ha pareggiato il Cattolica sì ha pareggiato e quindi penalizzata secondo te Antonio Aquino? era rigore perché interviene in scivolata non tocca la palla con i piedi ma benzi con il braccio in area è rigore quindi ha sbagliato secondo voi il signor Compagni di Firenze che cosa ti ha colpito in particolare della Moviola Serie D Erika? sì il calcio mancato di Minicucci che quindi non ha permesso all'Agnone di portare a casa la vittoria ma il pareggio infatti se anche l'Agnone avesse vinto avremmo replicato la domenica come la domenica scorsa tre vittorie delle Molisane sì in generale però le Molisane va detto che si stanno facendo ampiamente rispettare finora stanno disputando tre campionati in linea con le aspettative magari qualcuno potrebbe dire il Campobasso ce lo aspettavamo più in alto perché eccetera eccetera però fondamentalmente il Campobasso si è straripreso nelle ultime dodici giornate ha fatto trenta punti segnato ventinove gol incassati dodici in generale trentacinque gol fatti ventuno subiti e quindi non si può dire che stia facendo assolutamente un cattivo campionato tutt'altro allora Erika facciamo una brevissima pausa pubblicitaria sì ci fermiamo per pochissimi minuti quindi restate con noi perché torneremo a breve di nuovo in studio puntata 265 di Molise a calci seconda parte dedicata tra gli altri argomenti al campionato di eccellenza Erika Rico vuole fare subito una domanda ad Antonio Aquino sul campionato di eccellenza sì diciamo che ci sono due formazioni di eccellenza che si stanno contendendo un posto nei playoff e mi riferisco a Rocca Sicura e Real Guglionesi che militano entrambe a quota 32 ad oggi Rocca Sicura è quinto e Real Guglionesi è sesto secondo te quali delle due squadre l'avrà vinta credo che alla lunga il Rocca Sicura raggiungerà i playoff l'ha dimostrato anche ieri in un pareggio 0-0 fuori casa sul difficile campo di Vairano e credo che ha qualcosa in più rispetto al Guglionesi possiamo vedere la classifica ringrazio sicuramente Angelo Pompei e Massimiliano Chiocchio in regia la classifica del campionato di eccellenza perché si fa appassionante grandissima la rimonta che sta compiendo la squadra di Mario Cordone delle Acli Campo di Pietra che sono giunte al quarto posto in classifica mentre adesso Antonio c'è il Vairano che ha pareggiato come dicevi tu qualche secondo fa contro il Rocca Sicura poi Venafro e Treppini tutte in un punto praticamente secondo te cosa ci riserverà il futuro le prossime 12 è difficile dirlo perché alla fine sono tre squadre tre formazioni importanti in un punto però il Vairano nei singoli mi sembra mi sembra più forte mi sembra avere giocatori di maggiore qualità che nelle partite importanti possono fare la differenza quindi tu dici Vairano mentre ad Antonio Di Ricco chiedo questo progetto Acli e Campo di Pietra potrebbe vedere come dire la ciliegina sulla torta con la vittoria della Coppa Italia ma se andiamo a vedere sarà una finale molto molto equilibrata classifica alla mano vedi Acli Campo di Pietra Treppini io credo che tutte e due queste squadre ancora daranno fido da torcere le prime due ma aspetto ancora molto dalle acri Campo di Pietra aspetto pure che possa fare il colpaccio alla fine quindi per te saranno destinate ad accorciare ancora è un bel complesso gioca a memoria sì mi piace molto il loro gioco centrocampo fortissimo addirittura meglio di qualche squadra addirittura di Serie D secondo me per quello che ho visto beh mi hai fatto venire in mente un giornalista di Tolentino che ieri è venuto a Campobasso ha detto noi siamo venuti qui ne ho promossi perché il Tolentino l'anno scorso faceva l'eccellenza ovviamente senza nulla togliere al Campobasso ha detto noi secondo me lo ha detto il ragazzo di Tolentino siamo un'ottima squadra di eccellenza però ovviamente sono dei pareri rispettabili noi come li acquisiamo così li riportiamo per quanto riguarda il matrice Antonio Aquino un bel complesso anche una bella orchestra questo real matrice che spera di guadagnare sul campo il campionato di promozione è un obiettivo dichiarato sì non ci nascondiamo l'obiettivo è arrivare più in alto possibile stiamo facendo il possibile per raggiungerlo la società è importante non ci fa mancare nulla ha messo a disposizione penso una delle migliori strutture in Molise perché giochiamo a Mirabello e ci alleniamo a Mirabello è sempre presente si fa sentire abbiamo un allenatore importante maniacale diciamo ma non lo sacco sì lo salutiamo diciamo che ci sono tutte le condizioni giuste per arrivare fino in fondo le condizioni di classifica c'è la Turris che ha una specie di strapotere in classifica è prima ha dei prego sì la Turris in questo momento ha un punto di vantaggio però ha diciamo una partita e mezza da recuperare perché ha una partita intera da recuperare e 40 minuti da rigiocare contro il cerce maggiore purtroppo non mollano sono anche lì una bella squadra organizzati hanno dimostrato di dare filo da torcere a tutte lo stanno dimostrando però noi vogliamo dire la nostra e siamo lì quindi virtualmente la Turris ha un vantaggio di 7 virtualmente ha un vantaggio di 7 tra due domeniche quando verranno recuperate queste partite non lo so ancora non è stato indicato tra due domeniche però la Turris verrà a giocare in casa nostra e lì proveremo a recuperare qualche punto da loro va bene allora noi andiamo a vedere il prossimo contributo che dico è anche l'unico di questa seconda parte di Molise a calci l'unico concernente il campionato di eccellenza Erika sì e parliamo proprio del grande poker del Campo di Pietra contro il Campo Basso 1919 Daniele Genovese ha sentito per noi Nicola Iacovelli il presidente delle Acli Campo Basso e Campo di Pietra Nicola Iacovelli presidente del Campo di Pietra arriva una vittoria agevole sul 19-19 anche se poi agevole non c'è nulla la partita va giocata e va vinta sul campo ha giocato bene il primo tempo sono tempo un po' più alla spicciolata possiamo dire ma ci sta ma sì le partite vanno sempre giocate dall'inizio alla fine insomma soprattutto poi quando ci troviamo nel girone di ritorno dove squadre come il Campo Basso 19-19 deve fare punti per conquistare la salvezza però insomma ecco a prescindere da un approccio insomma probabilmente diverso da quello delle altre partite poi alla fine abbiamo portato con tranquillità il risultato a casa comunque siete in un ottimo momento presidente Rocca Sicura Capriati adesso 19 tutte belle vittorie pesanti che fanno classifica sì sono vittorie che fanno innanzitutto morale danno consapevolezza del bel gruppo che siamo e di conseguenza insomma anche a livello di soddisfazioni per la società ne stanno arrivando tante inutile girarci al torno presidente ormai la testa è al 2 febbraio sì senza dubbio ci pensiamo questo è in dubbio però insomma dobbiamo comunque arrivarci abbiamo un'altra partita di campionato insomma dobbiamo lavorare sodo poi è normale che finita la partita di Termoli la nostra testa sarà concentrata su quella che è la finalissima però insomma comunque c'è ancora tanto tempo e non sappiamo cosa succederà c'è ancora tanto tempo come hai detto tu bisogna prima andare a Termoli contro una squadra non facile comunque dal blasone ma sì io l'ho detto fin dalle prime interviste che ho fatto quest'anno e continuo a dirlo adesso tutti gli avversari vanno rispettati a prescindere dalla posizione in classifica o dagli organici che ci sono insomma perché altrimenti il calcio sarebbe una scienza perfetta e dall'inizio si saprebbe chi sale e chi invece scende quindi affronteremo con grande rispetto tutte le squadre e in primis il Termoli che affronteremo domenica e poi vedremo quello che succederà Presidente 38 punti è un ottimo bottino però forse un po' di rammarico c'è perché potete stare anche secondo me a mio maledetto parere che visto seguendo da molti anni potete stare anche un po' più alti qualche punticino ci manca sicuramente insomma qualche partita ricordiamo quella contro il Treppini Matese nella quale stiamo vincendo 5 a 1 insomma e poi l'abbiamo pareggiata 5 a 5 quindi quindi è stata rocambolesca però per calcio dà e toglie per cui può darsi che in qualche altra partita meritavamo forse qualche punticino di meno e invece abbiamo ottenuto di più per cui va bene così anzi va oltre le aspettative di inizio campionato allora Antonio Aquino ad Avellino che si dice ieri avete perso Avellino Lega Pro Girone C avete perso a Teramo al novantesimo al novantesimo su un calcio piazzato purtroppo l'Avellino non prende mai gol su calci piazzati però ieri è andata male diciamo quest'anno è un anno di transizione perché ci sono avuti vari problemi societari rispetto allo scorso anno dove nello spareggio l'Avellino è bella meglio diciamo tutto sommato è in linea di massima per l'obiettivo che è la salvezza e anche a pochi punti dai playoff però si vola a bassi e si pensa a salvarsi quest'anno tra l'altro facevamo delle possibili analogie fra l'Avellino che l'anno scorso era in Serie D e che cosa è il campo basso perché il campo basso abbiamo ormai lo diciamo quotidianamente anche nei nostri TG Sport se vuole fare qualcosa di importante è costretto a vincere tutte le partite cosa successe l'anno scorso ad Avellino quando l'Avellino accumulò un distacco dalla prima in classifica Antonio un distacco di ben 12 punti più o meno in questo periodo e poi da qui alla fine le ha vinte tutte e ha recuperato all'Anusei 12 punti e andò a farsi lo spareggio a Rieti dovebbe la meglio quindi questo potrebbe essere potrebbe con tutti i condizionali del caso bene augurante per il campo basso che è condannato come lo era l'anno scorso l'Avellino a vincerle tutte e l'Avellino però ovviamente non vinse questo lo dobbiamo sottolineare il campionato subito ma riuscì a riacchiappare passateci il termine il Lanusei questa squadra sarda nella quale militava Tengoranga attualmente nel campo basso si andò a giocare allo stadio Manlio Scopigno di Rieti dove andarono circa 5.000 tifosi dell'Avellino e lì vinse lo spareggio e quindi salì nel campionato di Lega Pro questo è successo pochi mesi fa e l'Avellino ha avuto questa fortuna ma fu anche artefice di una straordinaria rimonta Antonio Di Ricco una rimonta incredibile la cosa da sottolineare è che ci fu il pubblico che aiutò tanto la squadra in questa rimonta c'è stato molto calore io mi sento spesso con da d'altri che giocavano l'anno scorso sul campo basso e mi diceva che i tifosi erano sempre lì sempre a risultare e a incitarli dal primo alla fine della partita insomma c'era tanto calore secondo me fa tanto fa tantissimo il dodicesimo uomo in campo è il pubblico senti ma non voglio fare l'avvocato del diavolo ma quest'anno mi citi secondo te un errore secondo te il principale per il quale adesso il campo basso ha questo gap dal primato di 11 punti ma forse uno basta uno di dirlo secondo me forse all'inizio non si è pagato lo scotto di non aver riconfermato una rosa che magari già si conosceva tutta cioè malgrado quattro undicesimi sono del notaresco dell'anno scorso comunque poi amalgamare e nessuno poi si aspettava la ecco questo espluato del notaresco 12 vittorie consecutive mi pare diciamo nelle 20 partite giocate 16 vittorie 16 vittorie un pareggio e 3 sconfitti tutti ci aspettavamo più equilibrio ma probabilmente questa osservazione vorrei fare anche a notaresco non si aspettavano di fare 49 punti in 20 giornate tant'è che ieri siamo tutti presenti nella stessa nella stessa tv sentiamo tutti oltre al nostro foltissimo pubblico ieri l'allenatore del notaresco Vagnoni ha dichiarato dopo la vittoria di Iesi ha detto noi siamo gli intrusi in mezzo a quelle 4-5 riferito al Matelica Campobassere Canatese però vogliamo essere rispettati e non gli si può dare torto perché si sono intrusi visto che il notaresco non era con i galloni di favorita la vigilia ma adesso sono lì con un margine importante di più 8 sulla seconda e quindi devono essere rispettati lo dice la classifica che è Vangelo nel calcio Erika volevi fare qualche altro intervento con uno dei due nostri ospiti no vorrei lanciare la pubblicità è giunto il momento dell'ultimo break pubblicitario quindi restate con noi di nuovo in studio per la puntata numero 265 di Molise a calci poco prima della pubblicità parlavamo con Antonio Di Ricco al quale ho chiesto secondo lui quale fosse il motivo principale del distacco tra Campobasso e la vetta il notaresco lo chiedo ovviamente anche all'altro ospite Antonio Aquino che ha dentro tante questioni calcistiche secondo te basta un motivo una ragione a me dispiace dirlo perché il ragazzo è un ragazzo giovane però in porta il Campobasso ha perso tanto all'inizio il ragazzo deve crescere però se vuoi ambire ai primi posti avere un portiere importante che sia under over fa la differenza e il Campobasso lì ha perso diversi punti ecco secondo te il portiere secondo Antonio c'era la mancata di conferma credo di Cogliate ognuno dice la sua alleluia siamo in democrazia Erika credo che abbia un po' caldo perché è stata intercettata dal nostro Angelo Pompei mentre come dire creava un po' di aria intorno stile donzella dei misteri di Campobasso e meno male che hai caldo in una giornata molto molto fredda direi una fra le più fredde dell'anno noi vogliamo vedere il secondo blocco di Moviola Erika si guardiamolo insieme questa volta però riguarderà i campionati di eccellenza e promozione ma la scelta è sempre a cura del direttore Antonio Di Lallo in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali ora nella nuova sede di Contrada Iontapede nella zona industriale Campobasso Ripa Limosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1952 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità all'antistadio Acli partita tra Campodipietra e Campobasso 1919 Cappelletti in aree lanciato da un tacco di Guglielmi cerca di superare il portiere del 19 Coppola che frana vedete sulle gambe del giocatore in maglia bianca questo è sicuramente calcio di rigore giustamente concesso dal signor scarati di Termoli che ammonisce anche il portiere dagli 11 metri Cappelletti fissa il 2 a 0 poi nella ripresa arriverà la doppietta di Bangura nono del primo tempo a Ripalimosani c'è questo contatto vedete in area tra l'altro l'arbitro il signor De Castro è veramente a 5-6 metri dall'azione c'è Ricciardi che caracolla in area alle sue spalle il numero 4 del Castel di Sangro si tratta di San Marone andiamo un attimo dietro perché San Marone comunque vedete comincia qui l'azione poi c'è proprio un attimo dietro perché bisogna vedere ecco chiedo io al tecnico quando fermarsi andiamo avanti qui perché c'è vedete un contrasto anche fuori aria però ecco qui vedete il braccio sinistro di San Marone che in qualche maniera affossa Ricciardi qui a nostro avviso potevano esserci gli estremi per un calcio di rigore in favore del Ripalimosani 25esimo del secondo tempo ad Ururi è bravissimo Di Lullo a conquistare palla poi appena entra in area vedete c'è il fallo del portiere della Calena 40 anche qui torniamo dietro vedete netto il fallo con il piede sinistro sui piedi dell'attaccante dell'Ururi questo è calcio di rigore tutta la vita giustamente concesso dal signor Gioviani di Termoli che ammonisce giustamente il portiere avversario che poi ha chiesto anche scusa dagli 11 metri va a realizzare il 3 a 0 Ferrara terzo minuto del secondo tempo a Spinete c'è un calcio di rigore in favore del Caroville seguiamo il cross di Rossi vedete saltare con il braccio destro sicuramente largo Tasillo che colpisce il pallone vedete proprio con il gomito questo è certamente calcio di rigore giustamente concesso dal signor Izzo di Isernia dagli 11 metri accorcia le distanze per il Carovilli Lombardi la partita poi non cambierà più al 27 c'è questo lancio di Tasillo per Jacopo che parte in posizione regolare vedete davanti all'area di rigore viene sgambettato dal numero 8 del Carovilli Bacca ecco vedete il fallo eccolo qui questo è sicuramente fallo da ultimo uomo per cui l'arbitro Izzo di Isernia estrae giustamente il cartellino rosso partita tra Termoli 2016 e Donches c'è il calcio di rigore in favore dei Donches questo è un fallo praticamente uguale a quello che abbiamo visto prima a Ripalimosani dove l'arbitro non aveva concesso il calcio di rigore qui vedete entra in area l'attaccante della Donches si tratta di San Martino De Vita lo tocca con il braccio destro vedete l'attaccante va giù qui l'arbitro il signor Di Mario di Campobasso secondo noi ha concesso giustamente il calcio di rigore perché comunque il difensore si disinteressa del pallone quindi giusta la decisione di Di Mario andiamo avanti con le immagini perché dagli 11 metri fissa lo 0-2 San Martino Allora allora c'è questo bel progetto del matrice calcio come dicevamo con Antonio Aquino ci giungono notizie anche da un vostro dirigente collaboratore Domenico Giannaccaro l'amico Domenico Giannaccaro che ci informa del campionato XI CSI comandato dal Mirabello a 20 punti seguito dal Gambatesa a 19 a seguire la fiamma Yelsi quindi c'è anche questo campionato CSI tu non so se segui anche questo Antonio non è un campionato federale è un'altra federazione praticamente no no seguo perché i ragazzi di Mirabello si allenano a volte insieme a noi abbiamo fatto diversi amichevoli sono un bel gruppo di amici è il terzo anno che lottano per vincere hanno vinto due volte consecutive e penso ci riproveranno anche quest'anno quindi il Mirabello ha una squadra nel campionato XI ne prendiamo atto lo diciamo Fonte abbiamo detto Domenico Giannaccaro che è nel Matrice così come è nel Matrice anche Antonio Aquino domenica prossima contro chi giocherete Antonio? andiamo sul difficile campo di cerce maggiore si sono rinforzati non sarà una partita semplice non sarà una partita semplice ovviamente voi come il campo basso dovete vincere sempre? noi dobbiamo vincere da quella fine tutte senti ma se non doveste vincere il campionato c'è una possibilità di andare in promozione con i playoff? non so la società come si comporterà però i playoff li andremo sicuramente per vincere poi c'è la regola che diciamo che chi li vince sarà la prima ripescata noi in ogni caso anche i playoff li puntiamo sicuramente a vincere tra l'altro Matrice nello stesso raggruppamento del quartiere nord Campobasso dove gioca Giannunzio Magnifico che salutiamo che è il titolare di Autopia che come te ha una grossissima oltre ad aver sposato la causa rosso-blu ha una grossissima passione per il Campobasso Giannunzio cosa ci dice a proposito? Giannunzio è felice del Campobasso e ancora para benissimo secondo me io lo ho visto ma non avevamo dubbi su questo ancora potrebbe giocare anche in eccellenza secondo me secondo te in eccellenza? sì tranquillamente quando si dice un fatto non solo fisico ma di testa lui si allena tantissimo lui due o tre volte alla settimana va a fare allenamento gli piace e para meglio dei ragazzini e quindi come dire è un fatto di te di voglia la voglia fa la differenza anche per Giannunzio che non ha più 20 anni diciamo così top e flop sono curioso sono davvero curioso qualcosa mi hai anticipato ma non dico nulla sto zitto te lo giuro Erika ora lo guardiamo tutti quanti insieme lanciamo il top e flop calcistico di questo weekend top a Kevin Candellori centrocampista del campo basso con il vizietto del gol da applausi due gol segnati in 33 minuti al Tolentino Candellori è giunto così alla sua quarta marcatura stagionale bravo Kevin flop a bocca nera portiere della Iesina che buca letteralmente il pallone sul tiro di frulla del notaresco è l'1 a 0 per la capolista la partita terminerà 2 a 0 per gli ospiti allora top e flop c'è il top a Candellori Antonio Di Ricco sì c'è il top perché è un giocatore che sta ovunque avanti dietro è bravissimo in fase di contenimento è altrettanto bravo nella costruzione giocatore da Lega Pro anche forse qualcosa di più della Lega Pro fortissimo il notaresco ha vinto anche con una papela del portiere senza voler sminuire i meriti di Frulla che è un ex Iesina ha giocato 5 anni nella Iesina però i portieri un po' come dire scarseggiano oppure il campo in quel caso in questo caso specifico Antonio Aquino era iniziata da poco la partita Iesina notaresco in questo caso il campo sicuramente non ha aiutato il portiere però in questo girone devo dire la verità portieri bravi che fanno la differenza ne ho visti ne ho visti pochi se non nessuno è una grave pecca perché i portieri in giro ci sono bravi a volte però la regola che bisogna giocare con gli under a volte molti over peccano e non riescono a ricevere chiamate quindi tu sei in favore del portiere senior sì sì Antonio sì anch'io perché secondo me il portiere è il ruolo più difficile del gioco e più delicato e allora prima di chiudere vorrei una previsione tua su Bastese Campobasso domenica all'Aragona vedremo se sarà o meno come dire aperta anche ai tifosi ospiti a causa di alcune alcuni scontri del passato ma questo lo rimettiamo alle decisioni delle autorità competenti è una partita difficilissima perché loro vengono da una sconfitta brutta e daranno il 110% a noi ci basterebbe dare il 100% e avere la concentrazione giusta e comunque il Campobasso è più forte per me anche il gioco avere il gioco è tantissimo quindi per me vinciamo non sono ottimista come dicono in giro è proprio un mio sentore per me il Campobasso è un difetto anche quello io sapevo una volta che il difetto era essere troppo pessimista invece ti tacciono di essere troppo ottimista grazie per essere intervenuto a Molise a Calcio grazie a voi sempre così perché è una bellissima trasmissione grazie mille grazie mille e saluti ovviamente a tutto lo staff di Autopia con Giannunzio Magnifico in testa grazie ad Antonio Aquino al quale rivolgo personalmente un in bocca al lupo a tutto il matrice non solo ma anche per la tua attività di tecnico della scuola calcio Mirabello grazie mille Gianni grazie per l'invito ad Erika grazie per l'invito a te e complimenti per la trasmissione grazie Antonio Erika è stato un grande piacere anche per questo lunedì ringrazio anche io a te Gianni ringrazio i nostri ospiti ma prima di chiudere la trasmissione volevo fare gli auguri a Stefano Capuano che è un giovane avvocato molisano oggi compie 32 anni è nostro amico viene spesso anche ospite qui in trasmissione quindi tanti auguri da parte di tutto lo staff di Molise a Calci auguri Stefano e invece a tutti i nostri amici telespettatori ringrazio per essere stati qui in nostra compagnia anche questa sera vi do appuntamento a lunedì prossimo con una nuova puntata di Molise a Calci buonasera a tutti Molise a Calci in collaborazione con design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo uscita a Civitanova del Sagno Consul Brokers SPA Piazza della Repubblica 14-A Campo Basso broker di assicurazione Molise a Calci Piazza della Repubblica